Vivere la legalità costruendo comunità responsabili è stato il titolo dell'incontro con Suor Anna Alonso tenutosi al centro pastorale diocesano. Suor Anna ha portato la testimonianza del suo impegno nel quartiere di Guadagna a Palermo. Per anni collaboratrice amica di Don Pino Puglisi ha fondato nel 2012 proprio a Guadagna il centro arcobaleno 3P, nato con il tentativo di debellare l'omertà e l'illegalità che dilaga nel quartiere, in cui sono coinvolti i bambini fin dalla più tenera età, un centro che punta molto sull'aggregazione giovanile. Molti sono i ragazzi che dopo la quarta elementare non continuano il percorso scolastico, c'è molto analfabetismo e ignoranza raccontato. Nel centro possono contare su persone che gli aiutano, nello studio possono usufruire di corsi di musica e informatica. Suor Anna ha tenuto a specificare che tutto il centro è sostenuto solo dal 5 per 1000 e dall'aiuto della provvidenza. Le cose venivano fuori quando servivano, ha detto, molte sono state le donazioni generose e private. Gli utenti non devono pagare nulla perché è casa di tutti. Molteplici sono anche i progetti portati avanti dalla suora, con gli angeli della notte assisti senza tetto per le strade di Palermo, ha tolto dalla strada ragazze nigeriane vittime della tratta coinvolgendoli in corsi di cucito con materiali di riuso.